Parliamo di TAV, altro passo avanti verso la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Cipe, ha dato il via libera al progetto di variante che prevede lo spostamento dell'area principale dei lavori da Susa a Chiomonte per motivi di sicurezza. Qui sarà ampiato il cantiere per la costruzione del cunicolo esplorativo della Maddalena, il cui scavo è terminato a febbraio 2017. Con questa delibera del Cipe si concludono tutti gli atti approvativi della Torino-Lione in Italia e in Francia.